La crisi più pazza del mondo. La politica italiana resta appesa alla data del 20 agosto quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlerà al Senato, prima del voto di sfiducia chiesto dalla Lega. Ma intanto in questi giorni di AFA si rincorrono le ipotesi. Luigi Di Maio si concede, come dice, due giorni a Palinuro, ma intanto si affretta a smentire via Facebook quelle che definisce fake news, cioè le voci circolate nel pomeriggio, secondo cui Salvini, ansioso di ricomporre la frattura, gli avrebbe offerto la poltrona di Premier. In questa estate surreale, dice il leader del Movimento 5 Stelle, in cui la Lega ha fatto cadere il governo in pieno agosto, a questo punto a noi interessa solo una cosa, che il 22, quando è fissata la seduta alla Camera, si voti il taglio dei parlamentari. Solo che il taglio non si potrebbe votare se il governo fosse sfiduciato. Intanto il leader della Lega pure si mostra in vacanza fra i tralci d'Uva. Da un lato lancia messaggi trasversali, dicendo che il suo telefono è sempre acceso. Dall'altro sui social punta tutto sull'immigrazione e sul caso della Open Arms, ancorata in vista di Lampedusa, a cui proibisce lo sbarco. In tutto ciò la crisi formalmente ancora non è aperta. Il Partito Democratico fatica a trovare una posizione, ma è sempre l'ex segretario Matteo Renzi a rubare la scena e parlare, sempre su Facebook, per assicurare una volta di più, siamo pronti a un governo istituzionale per salvare le famiglie dall'aumento dell'IVA e per evitare che l'Italia sia isolata in Europa. Mancano quattro giorni al 20 agosto e le giravolte possono essere ancora tante.